Ciao a tutti amici e benvenuti sul canale del Re Leone, buon Natale a tutti, sono qui a casa dei miei nonni a bolla, saluta, saluta, ragazzi spero che voi siate in live per vedermi e fate qualche super chat, donate, ragazzi prendetelo nel recente ormai i fan di 5bj, ora vi mostro anche lo scatolo che è tutto lì ragazzi ecco noi è arrivato, ecco lo scatolo, poi vediamo faviginei e questo è tutto quello che c'è dentro, le cover, alcune le ho staccate, poi queste sono le auricolari, però questa non è la limited edition, è quella normale, perché quella, perché quella ha limited edition da 160, invece questa qua 120, questa è la sta per i selfie, ragazzi aspettate che ci facciamo un bel selfie, facciamo un bel selfie, facciamo ragazzi appena che ci facciamo un selfie, 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 Ecco la famiglia. Ecco un bel selfie. Lo faccio vedere. Non toccare a papà, non è tuo. Questi sono tutti i miei selfie. Ecco, questo qua è quello di nuovo. Questo qua è quello di nuovo. Questo qua l'ho fatto. Questa è mia mamma, io e la cucina. Ciao, Lucrezia. Ci vediamo l'8 di gennaio. Com'è? Com'è? Lui è Massimiliano, mio cugino. E lui è mio zio Adriano. Ciao. Che c'è papà? Bene ragazzi, questo è il mio primo regalo. Ehi, ciao. Ma perché non ti svegliete stasera? Che è? Che c'è? Tagliamo. Eh, saluta tu. Ciao. Ciao a tutti. Del nostro. Del nostro. Ragazzi, vi voglio far vedere l'ultima cosa. Il misterio con le ali. Oh, fammi vedere. Guardate, è pure il casco. Se non lo sapete, qui dietro c'è questo cosotto a leva, se tu non lo vieni. E li fai e li fai. Poi quando si alzano le ali, notiamo anche che si mette il casco. Si mette anche il casco. Vedete? Si mette anche il casco. Ragazzi, forse dopo facciamo un video a parte in cui giochiamo a tombola. Ora giochiamo amici e ritornate nel prossimo video. Spero che la life sia stata di vostro gradimento. Ciao!